E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo nella notte, andremo a commentare una delle famose, o meglio più importanti nel settore, trappole per polli, quelle che nelle quali cascano un po' tutti e soprattutto all'inizio dei propri percorsi, ma non solo all'inizio dei propri percorsi, perché ne ho sentito ieri tutti i colori e quindi ho pensato di farvi una puntata un attimino più riflessiva, quindi meno news, un pochino più di azione di prezzo, un pochino più di azione psicologica proprio dei mercati, per cercare di capire effettivamente cosa sta accadendo e darvi una mano. E se vi fa piacere ricevere questi contenuti vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace appunto qua sotto, ieri abbiamo superato ancora le mille, i mille, i mille, i mille mi piace, continuiamo a farlo, mi supportate tanto e soprattutto iscrivetevi col click sulla campanellina, sono due gesti che non vi costano nulla a fare e a me aiutano davvero tanto, e soprattutto date un'occhiata anche ai link che trovate qua sotto in descrizione, che sono i principali exchange che utilizziamo per operare e sono appunto gli exchange anche che vedete essere più stabili soprattutto in queste condizioni di mercato. Detto questo, partiamo perché abbiamo un sacco di cose da dire. Allora ieri cosa è successo? Ieri abbiamo avuto un'azione estremamente veloce di prezzo e io un po' in maniera, come si dice, un po' provocatoria, vi ho twittato questa cosa, ok? Dicendo di non prendervi paura, diciamo così, per così poco, altrimenti meritato un bear market infinito. E questo è perché davvero le persone non riescono a capire molto spesso quelle che sono degli shake da quelli che sono dei ritracciamenti più profondi e più aggressivi. Ma è normale che sia così, è normale che sia così. Se voi ascoltate il sentiment di mercato che c'era fino all'altro ieri, ok? C'erano persone che appunto guardavano da qua, io prima del 2025, prima del 2026 non toccò nulla, eccetera. Da ieri iniziano già i messaggi, ah vedete che ho fatto bene a fare, ok? E oggi si è ritornati dove si è arrivati. Questo perché? Perché appunto il mercato lo sa, lo sa benissimo che sono arrivati gli ultimi appunto nel mercato e sono arrivate gli ultimi posizionamenti in leva aggressiva perché non ci sarà mai un ritracciamento e queste cose qua. E ne abbiamo provato anche nel video di ieri. Voi andatevi ad aprire il video di ieri e capirete che gli shake all'interno di un bear market o di un bull market ci sono sempre, soprattutto nei bull market. Quello che è accaduto banalmente è una liquidazione complessiva, e per chi segue questi video sa che questo numero qua non si vede tanto spesso, di 1.05 billion, miliardi di dollari in contratti futures, di cui 816 milioni, quindi l'80% abbondante, 80% sì, è long. Allora se non sappiamo leggere o non riusciamo a interpretare questo dato come uno shake di mercato, come una liquidazione massiva, è un problema. È un problema perché non riusciamo a capire che cosa sta accadendo realmente sui mercati e quello che si può andare a fare è semplicemente ricadere in una di queste candele rosse vedendo l'open interest che già ieri ne parlavamo di come fosse estremamente esteso, può andare a resettare, resetta l'open interest e appunto il mercato stempera questa situazione. Ora il discorso dove sta? Il discorso sta che appunto bisogna cercare di capire esattamente perché si fanno queste cose in questo mercato. Se non si sa che cosa si sta facendo è meglio che si sta fermi, ok? È meglio che si fa buy and hold, se credete che questo mercato possa essere un mercato futuribile, ok? Ma è un'idea vostra, cioè un'idea che dovete prendere da me, dall'altro che trovate sul gruppo Telegram. Io non vi ho portato i gruppi Telegram questa mattina, ero invogliato davvero a tanto, ve lo assicuro, a portarvi, a aprirvi i gruppi e scorere. Ma non serve a nulla, ascoltatemi e basta su questo aspetto perché davvero lo fate per voi, lo fate per voi. Abbiamo già parlato di come questo mercato sia estremamente rapido, estremamente veloce, non è un mercato per tutti, ma purtroppo noto che tantissime persone si stanno approcciando in una maniera tale che sembra una slot machine, ok? Una sorta di grattevinci, quindi dentro fuori, dentro fuori, no ragazzi, lo fate, a mio parere sempre, quindi non sono consigli di investimento, voi fate sempre quello che volete, siete liberi di bruciare tutto o meno o diventare multimilionari in un giorno. Ma, appunto, se lo fate con testa e lo fate approcciandovi in una maniera consapevole e senza fare delle cose, appunto, a caso, fidatevi che il vostro portafoglio ne beneficia. Perché ieri, appunto, quello che è accaduto, prima vediamoci magari i gainers e i losers e poi andiamo a vederci quelli che sono, appunto, i movimenti di mercato. Abbiamo, vabbè, tra i gainers abbiamo WIF che è andato a essere listato su Binance, ha fatto un più 25%, attenzione, listing di Binance, soprattutto sulle meme, perché spesso danno un po' i top temporanei, ma in realtà in questo momento non sembra. Uno Sedleon un più 13%, Aptos un più 11%, Uniswap un più 11%, Terra Classic un più 11%, Fetch Eye un più 6%, Starknet un più 5%, quindi, in tutto sommato, continuano a crescere, in ogni caso, tra i losers, qualcosina, c'è sicuramente, visto lo shake di ieri, Saz che fa un meno 11%, Chilzo un meno 11%, Sipio un meno 11%, Rordi, compagnia cantante. Soprattutto tutto il resto che, appunto, c'è nel mercato al coin, ma mi interessa meno, perché mi interessa più farvi capire proprio questa cosa qua. Allora, ieri, pensate che c'era persone in panico a 62 mila dollari, e su questo voglio farvi un attimo ragionare anche qua. 62 mila dollari sono il prezzo che avevamo in lateralizzazione il 3 marzo, il 4 marzo, oggi è il 6, ok? Ieri era il 5. Voi capite come le persone si abituano a un livello di prezzo e da lì non si schiorano più, ogni giorno, ok? Quindi, non capiscono che a 63 mila dollari, 62 mila dollari, c'eravamo ieri e siamo andati a fare una leg up aggressiva in estensione di oltre un 8% e abbiamo avuto una correzione di shake. Cioè, se voi fate questo, mettete il daily, non mi stai a mettere mensili né niente, cioè, voi, c'è gente che andata in panico qua, ok? Qua, qua andata in panico. Io su questo grafico non so come si fa andare in panico, non so, questa un'olta e mai è normale che ci sia un po' di speculazione futures, però capisco da questo proprio che non si ha padronanza del concetto e si cerchi proprio, e diventa veramente una gamblata pura. Un altro nome che, appunto, è Ethereum. Stessa cosa, ho letto persone che si dicono, ho fatto bene a vendere a 3.500 perché guardate dove è andato adesso. Sta 3.700, 10 ore dopo. E non perché abbia una sfera magica di cristallo, ma perché non riescono a intercettare questi movimenti come degli shake. E soprattutto si abituano a dei livelli di prezzo mentali che ora i 60.000 sono scontati. Cioè, ragazzi, i 60.000 sono scontati. Se questo prezzo va giù a 59, 58, è finita. Mentre, se lo faccio, se vi dicevo, 58 un mese fa erano lì che brindavano, no, è impossibile, non ci andremo mai. Quindi, mi raccomando sempre, io vi sto facendo un po' questa, diciamo, cazziata, mettiamola così, ma lo faccio per voi, per il vostro interesse, come sempre. A me non interessa poi cosa andrete a fare. Personalmente, ognuno è libero di fare ciò che vuole, di investire come vuole, i soldi sono i vostri. E quindi, come sempre, se fate gain, è merito vostro se perdete colpa vostra, come ogni cosa e come le persone adulte, con i pantaloni nel mercato. Quindi, ripeto, tutto in mano vostra. Vi faccio notare degli errori che molto spesso vengono fatti. Questo che vi sto dicendo ora, però, mi raccomando, non dovete prenderlo come un allora andremo chissà dove adesso 100k. No, vi sto facendo vedere dei pattern mentali ricorrenti, che se arriviamo a 100k, facciamo un esempio, adesso arriviamo a 100k, voi pensate che se andremo giù a 90, 89, non ci saranno persone in panico? Assolutamente sì. Come adesso, li vedete, li vedete anche a 89, 88, mio Dio è finita, vedete, adesso si andrà, è così. Se andate a 150k, se va a 130, no, però, adesso è finita, è così. Quindi, mi raccomando sempre a non farvi influenzare da tanti aspetti esterni. Perché, ripeto, Ethereum è proprio la, 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 vedete proprio come rect sul mercato completamente da parte di alcuni attori. Tornando a noi un attimino di analisi, che è importante, magari, andiamo un attimo a vedere quella che è la Dominance. Dominance, che, appunto, sta andando in una sorta di correzione, anche era corretto abbastanza, perché, comunque, molto trainata dalle big cap. Quindi, esempio, in questo caso, Ethereum, che sta, vedete, trascinando molto bene, sta continuando, ma era un ottimo trade-off che già vi raccontavo dall'anno scorso. Quindi, non, non ci sorprendiamo oggi di vederlo a 3.700, ecco tutto qui. Importante, secondo me, questo reset di open interest, che vi facevo vedere in maniera un po' provocatoria prima, ma che, appunto, va a stemperare un attimo nel mercato, stemmerare il mercato futures. Ricordiamo che i mercati futures sono predominanti, chiaramente, in termini volumetrici rispetto agli spot. Quindi, gli spot danno un effetto di lungo termine. Diciamo che i futures sono effetti speculativi di breve. Quindi, trovate spesso più volatilità, magari, attraverso i mercati futures, che vanno poi a ripercuotersi, chiaramente, sullo spot. La cosa, secondo me, più giusta da fare ieri, ve lo dico proprio, non affrettata fatta, è che molte persone che qua dicono, no, perché bitcoin deve scendere, sono le stesse che non hanno comprato qua, ok? Su uno shake così importante, se voi pensate che, appunto, questo asset, fino a ieri, anzi, fino a 5 ore prima, pensavate che era un'ottima occasione di andare a accumulare più bassi, non capisco perché non l'avete comprato qua. A 50, a 9, a 60, a 62, a 63, tutte queste zone qua, dove, chiaramente, può darvi un maggiore slancio, ok? Un piccolo reset che può darvi degli entry point. Ripeto, è sempre una questione totalmente mentale. Quindi, bitcoin che cosa stanno a fare? Stanno dimostrando abbastanza resilienza in questa fase. Sicuramente, se andiamo a chiudere la giornata di oggi, di nuovo, in queste zone qua, non serve andare a riattaccare i massimi, ovviamente, riattaccando i massimi, sarebbe oro, ma, appunto, rimanendo 65, 66 mila dollari, sarebbe ottimo, appunto, perché va un attimino a stemperare sull'open interest, sui parametri, e un attimino a lateralizzare, per creare struttura, come ha fatto qua, e poter riattaccare i massimi, altrimenti, insomma, già tutta questa zona qua, della media 12, che va anche in prossimità di questo piccolo costrutto temporaneo, sulla zona di 61, che potrebbe essere una buona entrata, e poi c'è la 26, sui 56, 57 mila dollari, che comunque tenderà a salire. Abbiamo ancora spazio, perché, appunto, la settimana è ancora a metà, quindi c'è ancora modo di valutare. Detto questo, ragazzi, mi fermo davvero, fatemi sapere anche voi cosa pensate qui sotto nei commenti, fatemi sapere se vi ha fatto piacere ricevere questa puntata un po' diversa dal solito, ma credo molto interessante, molto utile per molti di voi, soprattutto, che sono entrati da poco, o un ripassino per chi c'è già, e, soprattutto, datene un'occhiata ai link e datemi una mano a supportare il canale, con il like, l'iscrizione, e utilizzando i link che trovate qua sotto, appunto, in descrizione ai video. Detto questo, ragazzi, vi auguro ancora una splendida giornata, e ci ragioniamo prestissimo con un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!